Il salotto letterario d'Anna si conferma ancora una volta una cornice importante per un evento culturale. L'autore Vincenzo Disegni ha presentato i suoi libri La cena di Odri e La primavera di Davide. Focus sulla cena di Odri, un testo scritto nella piena maturità dell'autore, che racconta una profonda amicizia tra due ragazzi, mentre La primavera di Davide, in forma di epistolario, narra un rapporto tempestoso tra madre e figlio. In effetti il libro inizia con la cena, l'ispirazione è stata la cena, è un po' come i romanzi gialli, parti da un episodio e poi a catena costruisci tutta la storia e in effetti il mio libro l'ho scritto al contrario. La cena risulta la parte finale del romanzo perché è riuscita a scansionare proprio l'impronta spirituale dei protagonisti. Perché la cena? Perché il cibo ci mette in contatto con le emozioni nostre più profonde e quindi laddove trova terreno fertile di un uomo strutturato nella percezione va da sé che poi esplode il senso della vita, dell'esistenza. Non a caso il libro è una riflessione proprio sul senso dell'esistenza. Non sono mancate le vibrazioni musicali di Francesco Liuzzi e Sergio De Simone che si si è esibiti con musiche che mettono in risalto la canzone napoletana. Il maestro Francesco Liuzzi ha sottolineato l'importanza della musica a un evento come questo, esaltando anche il valore delle belle arti, della scrittura e della pittura. Un evento come questo qua, la musica è quel tassello che racchiude tutto il contesto perché sono le belle arti, la scrittura, la pittura, la musica. Allora quando esiste un evento del genere e intervengono i musicisti è quella cosa che è la ciliegina sulla torta. Al timone dell'evento Vittoria Caso, fondatrice e presidente dell'associazione Clare Muse, la quale si è detta affascinata da entrambi i romanzi. Quello che mi ha colpito enormemente in questi romanzi, che mi è piaciuto tanto, è proprio questo scandagliare l'animo umano da parte dell'autore. L'autore è come se volesse oggettivare se stesso. Quindi ha davanti a sé due prospettive. Con una prospettiva lui guarda la realtà esterna, la osserva, la giudica. Dall'altra invece lui osserva se stesso e va a fondo del proprio animo e di quelle che sono le proprie emozioni. Cerca in qualche modo di prendere coscienza e consapevolezza di tutto quel magma, quel magma incandescente che si agita nelle profondità del nostro animo a livello inconscio. Carmine Mondola, vignettista dell'associazione da circa quattro anni, ha sottolineato la cultura del libro e della lettura. Ci tengo a sottolineare l'impegno che ci mette la professoressa Caso per queste iniziative, perché lei agisce sui territori di Casavatore e Limitrofi, come anche Napoli nella sezione della Polizia Municipale del Vomero. Siamo stati anche parecchie volte nella sala consigliare di Casoria, nella biblioteca di Casoria. Questo perché Clare Muse non si ferma solo sul territorio di Casavatore, ma si espande, proprio per portare anche verso gli altri quella cultura del libro che oramai è chiusa. O un po' l'internet che si può dire che ha portato la chiusura delle enciclopedie, oppure proprio perché oramai i ragazzi si dilettono solo sui cellulari, sulle ricerche, su Google, si chiudono su Wikipedia, leggono lì, però non si approfondiscono sulle notizie. Ai nostri microfoni è intervenuto l'editore Sergio Danna, che ha espresso tutto il suo orgoglio per questa iniziativa. Per quanto riguarda questa gioia che il salotto letterario ci dà, anche stasera noi abbiamo il piacere di mettere in campo un momento di cultura, giorno 26 metteremo in campo ancora un altro momento di cultura. Ormai diventa un appuntamento fisso, del quale bisogna gioire sempre e come si dice in questo caso qua? Noi facciamo il nostro dovere, il pubblico fa altrettanto, bisogna ancora creare quella rete. La stiamo creando pian pianino, sono convinti che quanto prima avremo un modus operandi, certamente che migliorerà il nostro modo di vita, ma certamente migliorerà il rapporto che si deve instaurare fra di noi. Quindi sono fermamente convinto di seguire Vittoria Caso in questa sua iniziativa. Grazie a lei che questo è il secondo anno che noi andiamo avanti e ci saranno delle sorprese sempre migliori in Del Senso. Questa è una promessa.